Se si usa il termine Stato, forse si vuol dire qualcosa di preciso, questo è il punto, ed è difficile che questo qualcosa di preciso rimanga eternamente uguale a se stesso, forse bisogna tornare sempre da capo a chiedersi che cosa si vuol dire quando si usa questa parola qua, anche il gioco di parole che in questo ciclo, voi avete usato, lo Stato dello Stato, la dice lunga, cosa vuol dire lo Stato dello Stato, la condizione dello Stato, lo Stato è una condizione, lo Stato è una condizione, è un modo d'essere, quindi un modo d'essere di che cosa, è un modo d'essere della convivenza, della convivenza di uomini e donne che in un modo o nell'altro decidono che a stare insieme è meglio che a stare separati, questo è il punto, è molto banale dire una cosa di questo genere, ma bisogna partire da lì, vediamo se no. Ora ci sono state condizioni di convivenza che hanno evidentemente preceduto quello che noi chiamiamo, la forma organizzativa che noi chiamiamo Stato, infatti parliamo tecnicamente di Stato moderno per indicare una forma abbastanza precisa, insomma, che ha dei caratteri che sono stati studiati, definiti, che sono sempre in procinto di essere rivisti, aggiornati, messi appunto e così via. Ora è rispetto a questa cosa qui, a questa forma storica, tecnicamente precisa di Stato, cioè lo Stato moderno che secondo me oggi ci si deve interrogare sulla sua crisi o non crisi, sopravvivenza o non sopravvivenza, cioè sul suo Stato di oggi, quindi lo Stato dello Stato moderno. Il mio maestro che era Gianfranco Miglio, che era un genio secondo me di queste cose, insomma, anche se molto antipatico, lui aveva inventato una formula grafica molto interessante, doppie virgolette, Stato maiuscolo, aperta parentesi moderno, chiusa parentesi, chiuse le virgolette doppie, che vuol dire che appunto tanto lo Stato è maiuscolo e non è minuscolo, quindi lo Stato dello Stato, secondo Stato è maiuscolo, poi è tra virgolette doppia perché vuol dire che lo si intende in termini quasi metaforici, in più è anche specificato che si tratta di quello moderno. Quello moderno vuol dire che ce n'è uno antico, forse, ma che non è quello, quello che ci interessa, ma quello moderno vuol dire che forse ce n'è anche uno postmoderno che anche quello non ci interessa. Allora dobbiamo vedere se è lo Stato moderno che ancora vive o non vive, se è quello che ci interessa oppure no, che aveva quei caratteri fondamentali che oggi sembrano essere saltati. Il suo carattere principalissimo era quello della cosiddetta sovranità. Adesso non possiamo metterci a discutere su cosa sia e su cosa non sia, però è opinione comune che oggi gli Stati di cui noi abbiamo conoscenza, quelli cosiddetti nazionali, insomma, hanno perduto gran parte di questo carattere costitutivo che era la sovranità e quindi questo è un primo punto. Poi c'erano altri due elementi fondamentali di questa roba qua, della statualità moderna, uno è il territorio e l'altro è la popolazione. Anche questi due caratteri sembrano essere tramontati, insomma, come caratteri tipici della forma organizzativa Stato moderno in territorio, non c'è più. Voi avete anche nel vostro… vabbè qui però non si parla del border, Mezzarda viene a parlare di un'altra cosa, ma parlerà poi alla fine dei confini, insomma, del border. C'è stata questa meravigliosa recensione di Antonio Negri sul manifesto, in cui appunto Mezzarda veniva paragonato a Weber, quindi andava benissimo. E quindi dico che il territorio, ma anche la popolazione, insomma, la popolazione, giusto appunto i borders dimostrano che esiste una… quindi anche questi caratteri sono venuti meno. Cosa resta? Ecco, questo è il punto fondamentale ed è la cosa su cui bisogna interrogarsi, insomma. Resta, secondo me, una cosa fondamentalissima e che è la funzione amministrativa, che in fondo è il punto di partenza di questa faccenda. Cioè il bisogno di ordine, sicurezza, protezione che una popolazione, che una comunità sente di avere, è soddisfatto fondamentalmente, io credo, dalla funzione amministrativa. E questo, secondo me, è il motore che porta a nascita e a sviluppo progressivo, sempre maggiore, la forma Stato. Da una parte c'è questo e dall'altra parte c'è il… un aspetto molto più inquietante e anche molto più profondo, forse, che è quello dei valori. e cioè di quello che chiamerei il complessivo simbolico, di cui lo Stato è in qualche modo il deposito. Su queste robe qui, secondo me, vale la pena di interrogarsi e di chiudere il discorso.